Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il toro è un grande mammifero erbivoro conosciuto per la sua forza e il temperamento a volte aggressivo. Rappresentato spesso nella cultura e nella mitologia come simbolo di potenza e fertilità, il toro è la versione maschile della specie bovina, spesso allevata per la carne, il latte, e come animale da lavoro. I tori variano significativamente in dimensione a seconda della razza, con una lunghezza che va da 100 a 230 cm e un peso che può oscillare tra i 400 e i 1000 kg. La loro aspettativa di vita media si aggira intorno ai 25 anni. Caratterizzati da un corpo massiccio e muscoloso, hanno una testa grande con corna spesse e ricurve. Il loro mantello può variare da nero, marrone, bianco ammaculato. I tori sono erbivori ruminanti che si nutrono principalmente di erba, siano, zbose e altri vegetali. La loro dieta può essere integrata con mangimi speciali per migliorarne la salute e la produttività. Nonostante la loro imponente stazza, i tori possono cadere preda di grandi predatori come leoni e tigri, nonché dell'uomo, che li alleva per vari scopi, inclusa la produzione alimentare. I tori sono presenti in tutto il mondo, principalmente in contesti di allevamento come obore, campi e pastvisca. Originariamente selvatici, sono stati domesticati migliaia di anni fa e ora vivono in una varietà di ambienti gestiti dall'uomo. Si adattano bene a diversi climi, da quelli temperati a quelli tropicali, e sono fondamentali per molte culture e per la loro forza lavoro e come fonte di cibo. a 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